Siamo tornati in quarta parte, stiamo andando di nuovo nel posto questo qua per farvi vedere Francesco guarda avanti a te, mi stiamo facendo, stiamo per farvi vedere E credo di sì, allora ragazzi, Francesco vai avanti, scusate ragazzi, allora, dobbiamo andare proprio in quel posto dove siamo andati alla terza parte Francesco, stavo facendo, ok Guardate come ho fatto il professionista Sì ragazzi Vabbè adesso io muoio Ok Sei vivo, arriviamo Vai, allora stiamo lì Stiamo lì Ok, Francesco andiamo, allora noi andremo fino alla fine, se ci riusciamo Non vi faremo vedere proprio tutto Ci dovremmo stare per un Aspettate Io faccio come fa Aspettate Un momento ragazzi Oh, ecco l'ora è meglio se scendiamo Ok, ecco l'ora è meglio Ok, ecco che siamo per lì Loretto arriva, aspettami scusate per le due tagliate però dobbiamo fare aiuto ragazzi qui mi stiamo facendo un bucato aiuto ragazzi ci sono persone grazie andiamo ragazzi eccomi ok ragazzi siamo qui e credo che dovremmo fare la terza spiaggia alla quinta parte quindi adios ragazzi